ciao ciao a tutti ci connettiamo adesso vediamo se arriva qualcuno nel frattempo oggi si parla di come attirare clienti su facebook ok facciamo i dovuti controlli e poi partiamo subito vediamo intanto se sono online ok intanto se mi sentite ditemelo facciamo i soliti controlli di rito insieme perché oramai si fa così devo parlare di un po di cose e soprattutto oggi volevo proprio parlare di come attirare i clienti perché parliamo sempre di social parliamo di strategie di qua strategie di là ma ancora non abbiamo parlato di come attirare veramente clienti cioè quali sono le azioni da fare per portare clienti su facebook allora intanto aspettiamo che si connetta qualcuno io sono qui ciao daniela ciao dimmi se mi senti per favore così possiamo iniziare tanto che arriva qualcuno oggi ho testato l'orario delle 19 e delle 19 e 30 vediamo se va bene poi comunque ci cominciamo cominceremo ad adattarci meglio agli orari in base anche all engagement ciao francesca ciao dimmi se si sente il microfono per favore ok come state tutto al posto tapposht come si dice dalle mie parti ne ok eccomi qua ti sento ti sentiamo perfetto possiamo cominciare ok quindi benvenuti allora oggi parliamo di una cosa molto complicata se avete domande oggi fatene perché l'argomento è abbastanza importante e merita sicuramente ciao gino ciao merita sicuramente un approfondimento quindi io vado quando ci sono domande come al solito scrivete perché il bello della diretta è anche il fatto che possiamo parlare possiamo interagire quindi come si attirano i clienti su facebook che abbiamo parlato in questi giorni dei soldi che servono del format insomma di come mettere in piedi le cose delle target e tutto quanto però è giusto anche dire cosa c'è quali sono le azioni che devo fare ogni mattina ciao tiziano ciao per attirare i miei clienti potenziali clienti lo vedi che comincia a fare i miei orari gino ma tu adesso è finito io vado avanti invece elisabetta è sempre sull'autobus ma mi viene il sospetto che elisabetta sia un autista a sto punto non è che guidi il 65 ok quali sono le azioni da fare quindi per ottenere clienti cioè cosa devo fare in pratica allora abbiamo detto che devo ovviamente individuare un target ma questo target ovviamente devo dare un'idea come sono posizionato con questa mia idea con questo mio prodotto qual è questa la prima domanda a fare come sono posizionato ovvero sono sparito io mi vedo vediamo se se io mi vedo ancora ok ci sono io mi vedo in differita cioè mi vedo in istantanea però francesca mi ha detto che sono sparito potete confermare niente io mi vedo però non sento più voi datemi un cenno datemi un cenno se ci siete ragazzi così vado avanti penso di sì perché vedo che aumentano le view ok dai comunque vado avanti al massimo lasciatemi un commento se ci sono problemi perfetto allora quali sono le azioni che devo fare quindi devo avere una un'idea una big idea questa big idea che devo avere c'è la grande idea deve essere un qualcosa che ovviamente ha un mercato ok sono tornato bene era andato in bagno facciamo facciamo così deve avere un mercato per il mio potenziale cliente quindi non è che io posso arrivare con il fuoco che spegne il fuoco nel senso di un qualcosa che non serve a nulla ok mi serve ovviamente dare prodotti e servizi ok mi vedono tutti perfetto prodotti o servizi che comunque interessano al mio mercato al mio potenziale cliente perché non possiamo pensare di aprire un mercato da zero non funzionerebbe se tu se ci mettessimo noi aprire un mercato da zero su un'idea che i nostri potenziali clienti non sanno ancora di volere ricordatevi la storia degli inventori gli inventori muoiono di fame muoiono magri muoiono grassi gli sfruttatori di idee quindi in realtà se la tua idea ha a queste caratteristiche diciamo a bassissimo margine non ha interesse nel pubblico automaticamente non riuscirai a attirare facilmente clienti su facebook ok per attirare clienti su facebook devi avere devi avere in mano un qualcosa che i tuoi clienti vogliono cioè è la base se non sanno di volerlo che è una cosa troppo nuova o comunque una cosa che le persone ancora non si sono accorti di volere caro mio soprattutto se a basso margine ti direi di lasciare perdere ne parlavo proprio oggi un'altra cosa importante è avere il margine su queste cose perché comunque se vuoi attirare clienti su facebook devi avere budget devi avere budget da investire quindi se quello che tu vendi non ha un margine tale da farti ripagare la pubblicità a darti anche un tuo profitto automaticamente tu puoi soltanto prenderla serrando e chiudere perché comunque non ti permette di fare questo tipo di gioco se hai attenzione dei prodotti servizi che non si ripagano la pubblicità vi sto parlando proprio terra terra ma sei bravo poi a upsellare a crossellare altri prodotti con alto margine allora sì quindi di base dobbiamo avere un'idea che piaccia al nostro pubblico e soprattutto dobbiamo avere il margine per portare avanti il marketing perché sennò qua non si può far nulla cioè io sento spesso dire che basta fare sponsorizzate ragazzi non è così cioè ci sono dicendo un sacco di cazzate non basta fare le sponsorizzate ci vanno questi elementi cioè voi dovete dare un qualcosa sicuramente che piace quindi una big idea posizionata cioè perché io devo comprare questa cosa questo servizio da te piuttosto che da un altro faccio l'esempio su di me perché tu dovresti comprare i miei corsi ok piuttosto che altri e questa è una cosa che dico sempre come dicevo ieri in diretta ripeto sempre il mio posizionamento ok il mio posizionamento è questo questo quest'altro va bene quindi deve essere posizionata l'idea e soprattutto deve essere un qualcosa che la gente vuole per esempio l'academy da dove nasce nasce dal fatto che io sto creando un prodotto ai ticket ok un prodotto con alto margine perché comunque il videocorso me lo faccio io quindi me lo faccio io e nasce tutto da una esigenza di mercato quando vedete che io vi faccio fare tutti questi sondaggi vi chiedo secondo voi perché ve ne faccio queste cose ovviamente io mi metto in condizione di capire quali sono le vostre frustrazioni quali sono i vostri problemi quali sono le vostre esigenze cioè io mi metto su quel piano lì e sopra vado a costruire la mia offerta ok e perché è chiaro che se io ti presento una idea ok fatta con qualcosa che a te serve è come se io sentissi dire che tu hai sete ok e ti presentassi davanti un bel piatto di sabbia calda è sbagliato ma se io sentissi che tu hai sete e ti presentassi di fronte un bel bicchiere di acqua fresca ghiacciata oltre a farti venire una congenza di nuovo mi sa che abbiamo oggi o la la linea che fa gli scherzi proviamo a chiudere un po di roba mi risulta che sono sparito mentre parlavo del bicchiere di acqua fresca ma e io continuo a vedermi ragazzi poi ditemi voi e vado avanti fatemi sapere se ci sono ancora o se sto parlando a vuoto come un imbecille comunque mi sto presentando ovviamente una cosa che vi interessa quindi da questo punto in poi sarà molto più semplice dire ok siamo partiti da una buona base come faccio adesso a attirare la gente chiaramente come abbiamo visto tutto partendo dal presupposto che il target ce l'hai ed è interessato e hai un prodotto che ha una linea posizionante nel senso si posiziona in un punto preciso meglio se questo punto preciso è poco frequentato ok è come se tu ti mettessi a fare lo strillone per strada ovviamente dovresti trovare il punto dove ci sono meno strilloni come te ma che c'è comunque molto passaggio quindi questo è per fare una linea di ipotesi un esempio no allora ci sono ci sono ok quindi ragazzi qual è la vostra idea qual è la vostra idea come come avete presentato l'offerta cioè avete fatto mente locale su quello che vogliono i vostri potenziali clienti attenzione non quello che proprio vogliono perché le persone non sanno cosa vogliono glielo dovete presentare voi avendo fatto un'indagine su quelle che sono i loro problemi e le loro frustrazioni loro paure cioè da dove nasce per dire il fatto di fare l'academy nasce dal fatto che le persone hanno bisogno di una guida passo passo semplice che prenda la z tutto quanto e che gli spieghi come si come si faccia a fare grana sui social punto fine molto semplice io già lo sapevo questa cosa ho già individuato questa questa breccia di mercato su ok come vedete ve le sto dicendo le cose molto chiaramente non è un segreto professionale non me ne frega un cazzo per me chiunque mi sente può anche prendere e copiare domani intanto già lo fanno di loro quindi non me ne frega niente però di base abbiamo visto che è così che si fanno cioè ho individuato una un buco di mercato posizionato la mia idea ok l'ho resa l'ho impacchettata in modo da andare a risolvere dei problemi e l'ho presentata come l'ho presentata con un format questa cosa del format ragazzi la dico solo io perché non perché io sia il il formatore di social più figo d'italia anche se lo so che lo pensate alla fine che lo sono è il mio essere estronico così diciamo che mette in luce il mio egocentrismo però a parte gli scherzi lo dico solo io perché è una cosa che manca alle persone che parlano di marketing perché non parlano mai di complessità cioè si parla sempre della singola tecnica la singola tecnica che può essere file ads metti 5 euro lì fai così fai cosa ma non è vista la cosa dall'alto nella sua generalità quindi la cosa deve essere fatta bene nel complesso ma in realtà semplice quindi sono quelle quattro cose abbiamo una domanda allora Gino dice qua io mi blocco nel senso io so cosa voglio ma rivendo semplicemente eh sì Gino tu rivendi ma se le persone comprano quello che tu rivendi automaticamente ne hanno bisogno giusto se hanno bisogno quello che tu vendi automaticamente ci puoi lavorare sopra puoi migliorare questa questa loro cosa ok anche i bisogni primari guardatevi se avete fatto il corso di copi no ci sono i bisogni primari c'è anche il latte è un bisogno primario e non è che lo siccome lo rivendo la gente lo viene a comprare solo perché lo rivendo cioè non c'è la domanda non è non ho proprio una cosa unica innovativa ma guarda non è che deve essere per forza unica ce lo so io innovativa può essere anche il modo in cui tu eh la promuovi questa cosa ok come vai a ehm a presentarla in mano ai tuoi potenziali clienti anche se tu la rivendi perché in realtà la rivendita è già un problema di su ti dà un problema in più perché non è il controllo della cosa quindi sei obbligato a eh a prenderti quello che ti danno gli altri ok quindi però questo è un discorso eh a sé l'importante che tu poi ehm abbia i margini quella è la cosa più importante perché eh va bene rivendere va bene rivendere scusa ma eh questo deve consentire di avere margine per fare tutto quello di cui abbiamo parlato quindi non ti preoccupare che tu non hai un'idea unica innovativa devi preoccuparti di capire come presentare la tua i tuoi prodotti ok la tua serie di prodotti per dire tu potresti comporne un eh kit potresti ehm far allegare dei servizi insomma devi sempre cercare di avere un'idea grande nel senso che le persone dicono ok preferisco venire a comprare queste cose che già tanto dovrei comprare da te piuttosto che da un altro questo è il lavoro da fare ecco come fai attirare clienti le oltre al fatto di avere un format che li tiene sul pezzo e a volte ti vengono a dire ok guarda ehm vengo da te comunque perché mi stai dietro cioè questa è una cosa che poi avviene perché comunque c'è però non puoi basare tutto su quello devi anche basare il fatto sul creare un'offerta posizionata bene che piaccia ai tuoi potenziali clienti ehm mi sono spiegato nel senso non devi basare tutto sul prezzo sbagliatissimo ultima cosa basare tutto sul fatto che tu comunque ehm gli stai dietro quindi è come se ti dovessero far pena no ehm ma deve essere un tutto un insieme di cose che tu vai a creare mh per andare a aiutare veramente i tuoi potenziali clienti con un'idea diversa quello è quello è cioè piuttosto aggiungi roba metti roba cioè cerca di capire come fare a presentare le tue cose in maniera che i tuoi potenziali clienti siano i primi a dire ok no no ma tanto io vado lì perché lì puntini puntini cioè completa tu la frase io vado lì perché lì puntini puntini questa è una delle quelle cose che potete sfruttare per voi scusate un attimo egocentrismo figo sei figo grazie Elisabetta non c'è di ciao Davide oh manco mi saluti mi spari una domanda così secondo te quale potrebbe essere il prossimo canale di comunicazione pubblicità qualche realtà che sta nascendo potrebbe prendere un pezzettino del mercato in futuro insomma qualcos'altro oltre facebook e google dove dover postare perché tu dovresti pensare al prossimo canale cosa te la dico brutta cosa te ne frega di sapere quale del prossimo canale nel senso approfondiamo c'è la domanda è furba ma non ne capisco il senso comunque cercherò di risponderti lo stesso l'evoluzione dei social network l'abbiamo da quando c'è c'è da quando è nato internet si sono sviluppati i primi forum se non so se vi ricordate com'era il forum come era strutturato il forum bla 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 poi sono partito sono nati i primi social facebook si è posizionato come primario oggi ha numeri talmente alti e talmente ha oltre la potenza economica la proprietà dei dati soprattutto il traffico perché è il numero uno che oggi non sussiste il problema su quale altro social mi metto ma oggi sussiste il problema siccome in italia ascoltatemi bene siccome in italia sono tutti brocchi a fare marketing ancora cioè non c'è gente che investe molto quindi la concorrenza è bassa automaticamente puoi lavorare benissimo oggi qua cioè devi farti la tua base su facebook cosa succede oggi sfrutta facebook o instagram anche se dipende un po anche i tuoi prodotti penso che possono andare bene però anche lì è sempre in base a come strutturi la tua il tuo format no la tua offerta la tua idea sul tuo target cioè queste cose insieme però di base oggi tu dovresti lavorare a crearti la tua realtà forte per poi dire ok se uscirà una terza nicchia che oggi non c'è c'è oggi ce ne sono tre in realtà c'è facebook linkedin e andiamo su instagram twitter e snapchat sono già stanno già andando il dimenticatoio twitter lo si usa vagamente per fare assistenza c'è chi twitter ma ragazzi c'è i soldi non stanno più lì i soldi stanno su facebook questa è la cosa che bisogna mettersi in mezzo c'è inutile mettere focus sull'innovazione che sarà piuttosto che cercare di crearsi questa cosa cioè se ho capito bene la domanda questa è la mia risposta d'altro posso dire così se dovessi pensare a come sarà l'evoluzione tu considera che i social oggi fanno quello che tu facevi con internet fino a ieri pensaci bene cioè tu un tempo mandavi la mail oggi mandi il messaggio su facebook tutte queste serie di cose saranno l'evoluzione dei social quindi a un tempo sfruttavamo tantissimo google per andare a comprare adesso sta cominciando il marketplace le vetrine insomma il social selling si fa sempre più una realtà di base io vedi sto cominciando a parlare social selling e quindi mi sto specializzando in una cosa che ancora sta prendendo piede ok la domanda doveva essere le persone che stanno abbandonando facebook fare la fascia millennial inizia ad abbandonare la domanda è dove sta andando ma guarda non sta abbandonando facebook assolutamente no no i dati parlano chiaro siamo ancora in crescita anche con i millennial soprattutto guarda sono sono stanno ancora rinforzando perché il mattino presto di base sono i millennial sono ancora quelli che fanno hanno più fanno più traffico facebook cioè queste sono statistiche di mercato quindi sta cambiando sai cosa sta cambiando ragazzi sapete cosa sta cambiando sta cambiando l'attenzione cioè la vera sfida oggi ragazzi è tenere l'attenzione del pubblico perché comunque tutti stanno su facebook nessuno non è scritto facebook il problema è che ci sta meno magari però per più volte al giorno quindi si fa la sua scrollatina di 6 6 6 minuti grazie davide grazie sempre un piacere ascoltarmi meno male meno male che qualcuno fa piacere ascoltarmi ancora oggi se no dovrei andare a farlo spazzino e non è detto con giorno non andrò a farlo e anzi no oggi ne ho detto un'altra il giardiniere al cimitero potrebbe essere il mio prossimo lavoro quindi quando mi stuferò di parlare oppure quando non ci sarà più nessuno che mi ascolta il mio lavoro preferito sarà quello lì ovvero andare al cimitero e fare il giardiniere in silenzio proprio nella pace dei sensi va bene ragazzi quindi il discorso interessante cioè oggi non è più tanto dove vado a prenderla la gente la prende su facebook ok la gente la prende su facebook ovviamente oggi è più difficile mostrare un'idea perché 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 le persone hanno meno attenzione poi man mano comunque stanno nascendo i concorrenti quindi oggi che bisogna sbattere budget sopra pom 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 fare fare quel budget spallare merda e per avere un ritorno perché oggi è il momento giusto è il momento giusto cioè rispetto all'america siamo ridicoli come investimenti ragazzi è così siamo nel momento buono cioè oggi i soldi stanno su facebook basta lì te li devi solo andare a prendere ma non è un posto dove vai li prendi gratis per entrare a gio pagare soldi fanno soldi in questo caso è vero ovviamente bisogna avere le strategie esatte e tutto quanto poi si pensa la gente pensa che tutto poi va a disgregarsi in micronicchie infatti erano nati tanti social ve li ricordate all'inizio quanti ce n'erano anche snapchat tutte queste cose qua no però ragazzi poi cosa succede alla fine come in tutto in tutte le storie cioè in tutta la storia del business arriva un certo punto che il pesce grosso si pappa tutto è sempre così quindi nasce un'idea e c'è la grande industria si dirama in piccole cose arriva il pesce grosso e si rimangia tutto è così via è sempre un ciclo è un ciclo che va avanti così pensateci bene cioè pensateci bene è così è la storia del business cioè il poi grosso alla fine comincia a comprarsi tutto il mercato e rimangono solo grossi player aiuto stai affogando Gino ma in cosa mi aiuti non ho capito bene comunque ragazzi il discorso è semplice quindi come come fare a attirare nuovi clienti ragazzi dovete partire dal creare un'idea che stia in piedi su un format bello cioè più semplice di così ovviamente vedete queste cose io ve le sto dando a titolo gratuito la domanda è qual è il vostro format qual è la vostra idea qual è il vostro target sono cose cioè queste sono le cose quali sono avete lavorato su questo una grossa cosa che farò tra l'altro è vero adesso sono qui segnatevi la data lo scrivo anche il 24 se non sbaglio non mi ricordo più vediamo un po' si il 24 24 aprile ora 21 segnatevi la data per favore per favore per favore segnatevi la data 24 aprile ho le 21 sulla mia pagina tutti qua perché ci sarà il lancio fighissimo di Face Fast cos'è Face Fast? Face Fast è il corso di Facebook che ti permette di capire quali sono le azioni da fare per ottenere risultati nelle inserzioni quindi creare inserzioni che ruzzano che fanno girare che fanno soldi che ottengono risultati quindi le cose tecniche da sapere da impostare per creare inserzioni che rendono questo sarà un webinar dalla durata come al solito di un'ora più domande verrà lanciato il 24 il 24 non c'è proprio il webinar attenzione il 24 lo lanciamo quindi ci sarà un webinar di presentazione dove andremo a parlare ok? c'è il webinar di pre-lancio dove andremo a parlare appunto di di come si fanno ads ok? intanto vi metto il il link del post che comunque trovate sulla mia pagina avete ricevuto la mail oggi? maledetti non mi dite mai niente mai una volta che qualcuno dica oh bella la tua mail di oggi Marco niente proprio soddisfazioni non me ne volete dare ok? lo pinno in alto benissimo dovrebbe essere a posto e faremo questo webinar ok messo il webinar di pre-lancio di FaceFast e andremo a parlare dei 5 passi per fare grana con i social per vendere con i social e anche di brutto quindi ci sarà questo metodo pratico in 5 passi e poi ci sarà ovviamente l'offerta l'auto a auto one time offer nel senso che ve la pigliate adesso o non ve la pigliate più anzi ve la pigliate adesso o ve la ok ci siamo capiti allora ci sono delle domande mi raccomando vi siete segnati intanto il 24 periodo e il 21 dovete esserci eh c'è il webinar gratuito di pre-lancio di FaceFast quindi siamo già in pre-lancio in questo periodo quel giorno lì lo lanciamo avremo i carrelli chi non l'ha comprato se lo compra chi invece deve ancora ehm chi l'aveva già comprato scusate perché si è preso tutto il pacchetto va bene così Davide ha un'altra domanda il caso Facebook è apparentemente necessità di privacy come può incidere sui funnel mi spiego stanno cambiando tante cose per quanto riguarda la privacy dopo prima autorizzazione secondo te questo inciderà dal punto di vista della federazione del cliente e della possibilità di comunicare in maniera veloce è lo stesso sì la risposta è sì ma ci ho fatto anche una diretta ehm qualche giorno fa di non preoccuparti di questo adesso stiamo andando nel tecnicismo quando in realtà il tecnicismo ti interessa quando fai i numeri cioè prima dobbiamo cercare di far correre le alz cioè dobbiamo avere dobbiamo fare numeri allora quando tu fai i numeri mi parli di ottimizzazione ti dico sì cazzo un doppio team può crearti problemi come può risolvertene dipende da da che da cosa cerchi tu ma di base ragazzi non cerchiamo non vi preoccupate di questo e allora facebook è ovvio l'avevo detto nelle webinar l'altro giorno facebook è ovvio che ha la proprietà dei dati di tutti movimenta i dati movimenta le informazioni movimenta soldi ragazzi cioè voi no se fosse uno stato lo stato più potente del mondo che ha a che fare con l'azienda che ha tutti i dati tutte le informazioni tutti i soldi l'agenzia di comunicazione numero uno al mondo l'agenzia che muove i media nel mondo cosa fareste? è ovvio che cercheresti di rompergli le scatole è ovvio anche perché non vorreste trarre del profitto ma sicuramente secondo voi perché il senato gli sta rompendo le palle cioè non è un discorso di scie chimiche massoniche ma ragazzi bisogna anche per la potenza di questa azienda cioè ragazzi è uscita fuori dai temi cioè potentissima quindi in realtà è ovvio che succedano queste cose è ovvio che si cercherà di avere un controllo sulla privacy ma questo in realtà è il lavoro del marketing cioè cercare soluzioni all'attenzione e alle azioni delle persone cioè noi come marketer il nostro scopo principale è far fare un'azione alle persone più volte di modo che passi da perfetta sconosciuta a cliente che compra ricompra e poi ci fidelizza lo dirò sempre e lo scopo è questo quindi il mio scopo in realtà è farti fare un'azione per dire oggi sono in un webinar ti dico mi raccomando segnati per per il prossimo webinar che faremo il 24 che è importante cerco di farti fare un'azione magari cerco di farti iscrivere altra cosa magari hai fatto il mio video gratuito vai sul mio sito marcodoria.com se risorse gratuite scaricati il video gratuito smettiti di fare le ads da lì mi raccomando poi hai fatto il video prenditi la mia offerta cioè sono azioni 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 che devi fare chiaramente l'ostacolo ci sarà sempre cioè ci sarà qualcuno che cercherà di mettersi tra quello che io ti chiedo di fare e quello che tu fai quindi non sta alcune in più quindi io dovrò trovare da marketer il modo per girarlo il modo per spostarti perché il mio scopo è spostarti farti fare azioni e spostarti da una parte e dall'altra è questo il social selling è potente perché oggi sono tutti su facebook ragazzi a costi ridicoli possiamo tirare su veramente 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 un 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 bel business cioè ma sicuro a costi ridicoli tu immaginati e come dico sempre quanto cavolo costa avere un agente che ti gira un commerciale che costi ha costi pazzeschi questo è ragazzi va bene e quindi niente oggi voglio parlare di questo quindi di come attirare nuovi clienti quindi l'idea ragazzi l'idea cercate di avere un'idea diversa penetrante che entra in un mercato buono cioè non è detto che dobbiate essere number one perché se rivendete cioè non vi chiedo questo vi chiedo di andare a lavorare benissimo su quello che fanno i vostri potenziali clienti per poi presentargli un'offerta basata appunto sulla risoluzione di queste cose cioè qualsiasi cosa voi vendiate cioè questa penna può diventare la risoluzione di un problema è solo come io te la presento perché in realtà è un pezzo di plastica anche se è una Montblanc è un pezzo di plastica però capisci che ci puoi puoi creare soprattutto quello che vuoi l'importante è che la tua idea abbia margine o se non ha margine la tua idea di front end ce l'abbia quella di back end quella che fai dopo però questo è margine margine ragazzi e poi niente volevo parlarvi del lancio il 24 faremo il lancio di di face fast che sarà questo corso di facebook molto pratico e molto chiaro cioè non c'è tanto da dire creiamo inserzioni che funzionano punto quindi tecnicamente fai questo fai questo fai quell'altro una volta fatto quello dopo ci sarà ancora il corso instastart ovvero la stessa cosa con instagram dobbiamo vedere con luca zacchedu sempre in un webinar di un'ora quello che succederà poi da lì chiudiamo tutto baracca e burattini e ci sarà solo più la social selling academy che ha il valore di 1000 euro ti dà tutto un pacchetto business online completo cosa si intende per questo che ti dico da là alla z cosa fare per creare un business online e ti farò anche vedere la dimostrazione pratica perché io in questi giorni sto creando un nuovo business in una nuova nicchia dove non mi conosce nessuno sto documentando le cose per poi presentartele in questo corso ok l'academy vale 1000 euro se vuoi poi la mia consulenza su questa cosa costa il doppio molto semplice risolve problemi di mercato tutto è un'offerta fatta bene soprattutto se ci sarà anche la possibilità penso di aggiungere il fatto di poter come di creare un business di videocorsi che potrebbe essere una cosa che interessa a tutti perché potrebbe essere parallela al vostro servizio quindi creare proprio il sito ma vi farò vedere tutto come si crea il sito fai questo fai questo fai quell'altro crea la membership cioè ti farò vedere come si crea un business completo che parte dai social che funziona in poche parole tu dovrai solo metterti lì studiartelo mettere soldi e partire mi sembra che è più di così è per quello che gli do ha un valore immenso vale molto più di 1000 euro sono informazioni che se vai in giro le paghi anche 25.000 euro io te le metto come tutorial e quindi ragazzi il prezzo è ridicolo per quello che c'è va bene avete messo tutti da parte un bel millino da darmi e poi mi dicono eh Marco ma non devi vendere sempre io venderò sempre ragazzi cioè è normale perché ovviamente il senso delle cose è la vendita il marketing alla fine è la vendita quello che dico sempre quando la gente dice eh ma tu hai copiato ma tu hai copiato sì ragazzi è ovvio che arriva a un certo punto se prendi quello che io dico e l'ho copiato da qualcuno perché nel 1981 quando sono nato io il marketing l'avevano già inventato la vendita era già inventata non è il discorso qua che ti sei inventato tu che sei inventato quell'altro e ma quell'altro e ma quell'altro e infatti sono quello che tu riesci a fare punto fine boh nessuno parla di social selling nessuno ti spiega questo tipo di cose quindi evidentemente boh adesso lo faccio io poi qualcun altro che lo farà non è che mi ha copiato cioè così il marketing è sempre esistito punto fine va bene ragazzi ciao Renata ciao oh vi sento taciturni stasera avete già fame l'orario e quindi niente direi che possiamo salutarci se vi è piaciuto se avete domande fatemelo adesso se no chiudo e continuo a fare delle robe sto finendo un manuale io voi che state a fare sto finendo un manuale per quanto riguarda l'altro business che ho sull'odontiatria devo andare in stampa adesso e poi anche lì devo chiudere l'academy pure là infatti sono un po' incasinato in sto periodo però è così è così la vita del formatore quelli che dicono oggi ho visto un altro in Porsche poi ne vedo gente in elicottero non è proprio così io mi alzo al mattino mi siedo nella mia topaia lavoro fino a sera tardi quando faccio la diretta mi rialzo e vado via contenuti marketing clienti è molto più neioso di quello che sembra va bene ragazzi niente allora vi saluto ci vediamo vediamo domani comunque seguite le mail perché nelle mail stiamo facendo appunto questo periodo di prelancio fino al 24 e il 24 era lanciato face fast e poi vi dirò i dettagli in seguito che se l'ha già comprato ovviamente se vuole ricomprarselo va bene lo stesso se no ragazzi va bene così ok ragazzi buona serata buona cena andate che un posto al sole sta iniziando lo so che lo guardate maledetti ciao ciao